Non si è neanche più sentita, ti devo vedere anche quello, no? Perché l'arbitro non ha disputato una grande prestazione. Cosa c'è? No, però... No, ma mi dia tempo, perché poi se no non ciò fa tanto tempo. Allora, questa è la prescita in questo momento. Italo 88, Atalanta 78, Juventus 1075, Napoli 72. La volata Champions è la seguente. Domani sera in Milan, la fonte è casa al Caipari, poi gioca l'ultima con l'Atalanta.